Eccoci di nuovo ancora insieme, oggi vi sarete un po' stancati di vedermi sempre, ma è il nostro convegno, quindi dobbiamo essere presenti e darci un po' il cambio anche tra i relatori. Questa sera abbiamo con noi il nostro amato Enzitiv, che adesso tutti quanti voi conoscete, che tutti quanti voi amate, un personaggio controverso, un personaggio misterioso e quindi siamo qui questa sera ad accogliere a braccia aperte il nostro amico Enzitiv. Ciao Enzitiv, buonasera, come stai? Tutto bene, te come stai? Bene, è un po' stanco, sai questo convegno ha fatto, abbiamo avuto un grande successo devo dire, ma ovviamente come tu puoi immaginare è molto stancante organizzare tutte queste cose, però sono molto contento di come è venuto e lo sento anche dalle persone che comunque sono intervenute e quindi sono, ma non siamo qui a parlare del convegno, parliamo di te, chi sei? Perché questa sera io vorrei fare un'intervista come se il nostro pubblico non ti conoscesse, perché ovviamente ci sono tantissime altre persone che si sono adesso iscritte a Bridges of Light, grazie anche al convegno, grazie anche alle persone che hanno partecipato al convegno. E quindi prima di tutto facciamo una mini intervista, ovviamente poi ci sono anche le persone, c'è la nostra bianca, la nostra amica toscana come te, che come sai ti adora, è la tua fan numero uno qui su Bridges of Light. Prego? Bene, dicevo. Sì, sì, assolutamente. Sì, per cui prima di tutto facciamo una piccola intervista e poi se ci sono domande, ovviamente come sapete, Ancetive parla di viaggi astrali e quindi, allora Ancetive, chi sei? Allora, innanzitutto Ghetano è doveroso spiegare perché indosso gli occhiali da sole e il cappellino, perché altrimenti mi prendono per bischero, si dice noi. Io vivo in una realtà molto piccola e non amo la pubblicità personale e soprattutto se il mio volto girasse troppo sui social io avrei la fila sotto casa per chiedermi le informazioni sui defunti perché di fatto sono un esperto di morte, di quello che è il passaggio, di quello che è l'esperienza morte. E allora con gli occhiali e il cappellino posso sempre dire, beh sì, mi assomiglia ma non sono io, mi difendo con questo. Poi sono un viaggiatore astrale, mi auguro che ormai il fenomeno dei viaggi astrali sia ben conosciuto e diciamo di dominio pubblico, che ha scritto qualche libro, ho scritto tre libri che per fortuna hanno avuto un discreto successo, che trattano comunque l'argomento viaggi astrale legato all'aldilà alla morte, soprattutto il manuale per sopravvivere dopo la morte, che è un testo molto semplice dove elaboro alcune teorie, che poi sono teorie ma sono in parte le mie esperienze, e su questo testo è raccontato ovviamente oltre che i viaggi astrali ciò che succede all'anima di un defunto in base alla tipologia di morte che subisce, per cui non più un giudizio divino, vero e proprio come la nostra tradizione ci vuole insegnare, ma una parte determinata dalla tipologia di morte e l'altra doverosa ovviamente dalla consapevolezza dell'individuo. Questi sono i fattori che determineranno il primo ingresso in quello che comunemente viene chiamato al di là. Questo libro ha avuto un discreto successo, il maestro Battiato mi ha voluto nel suo ultimo documentario, nel suo ultimo film Attraversando il Bardo, e da lì diciamo che il grande pubblico mi ha seguito in maniera più assidua, anche se rimango comunque un personaggio schivo, non amo troppo, come ti ho detto, la pubblicità, non amo troppo espormi, ho anche un caratteraccio, perché non a tutti piaccio, è doveroso anche questo, e poi sono approdato attraverso la comunicazione online, mentre prima scrivevo e basta, ora mi mostro anche parzialmente in questi bellissimi eventi, in questi bellissimi canali che dispensano conoscenza e informazioni indispensabili all'evoluzione personale e soprattutto del genere umano. E quindi poi sei approdato a Bridges of Light, e quindi abbiamo colto l'occasione di averti con noi più spesso, questo lo dico per le persone che in realtà ci sono delle persone che non ti hanno mai visto, e quindi hai fatto bene a spiegare anche per il cappellino e gli occhiali, ok, e quindi questo, c'è qualcuno che dice, c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, ok, questo dà una canzone di battiato appunto, però ok. Non l'ho mai visto senza. Non l'ho mai visto senza, e va bene, ho questa fortuna, pensate, l'ho visto senza, senza occhiali e senza cappello. Allora, tu parli con un bambino di cinque anni, voglio dire, io sono un bambino di cinque anni che non sa che cosa sono i viaggi astrali. Ce lo vuoi spiegare per piacere dal tuo punto di vista? Certo, allora, guarda, nei termini più semplici, i viaggi astrali sono una capacità che ha l'individuo, che hanno tutti i soggetti, è un po' come saper dipingere o saper cantare, per cui è una capacità che più delle volte è latente, che è quella di esplorare altri mondi e altre dimensioni, visto che sei un bambino parliamo di altri mondi, soprattutto durante la notte, attraverso la separazione dell'anima dal corpo. Proprio basic, eh? Molto basic, bravo, sì, ok, perfetto. E quindi tu fai questi viaggi astrali. E dove vai? Questo è un viaggiatore astrale spontaneo, per cui mi separo sistematicamente dal corpo, ho questo fenomeno che viene anche chiamato sdoppiamento, sono arrivato comunque a gestirlo in maniera abbastanza consapevole, in maniera abbastanza, diciamo, personale, per cui mi muovo non più subendo quello che è l'attrazione, non subendo più il fenomeno, ma gestendolo. E di conseguenza attingo a delle informazioni che sono a disposizione di tutti, perché sono informazioni, parliamo sempre in termini semplici, cosmiche, ma che non si possono raggiungere se non attraverso queste esperienze di natura trascendentale. Quindi facciamo un esempio, tu una notte, cioè durante la notte, quando puoi, ovviamente non sempre, sei coricato sul tuo letto e a un certo punto ti vuoi sdoppiare, te ne vuoi andare a viaggiare in astrale. Come fai? Cosa è la prima cosa che tu fai? Allora, per prima cosa è opportuno rilassarsi e cercare comunque di evitare di abbandonare tutti quei pensieri spazzatura che infestano la nostra mente, che sono lo stress, le ansie, il lavoro, le frustrazioni, i rancori, tutto quello che noi dovremmo lasciare durante il giorno, ma soprattutto quando ci dedichiamo questi piccoli ed importanti momenti di introspezione. Dovremmo imparare, quando varchiamo la soglia di casa, a lasciare fuori i nostri problemi e a far sì che la casa sia un ambiente sereno, dove comunque per quei pochi momenti in cui ci stiamo ci godiamo semplicemente l'ambiente, i familiari e ciò che abbiamo creato, dimenticando lo stress, il lavoro e le brutture del mondo. A maggior ragione quando si fa un lavoro e una tecnica per avere uno sdoppiamento. Dobbiamo comunque rilassarci, dobbiamo far sì, io lo chiamo vuoto mentale, creare una sorta di vuoto mentale in modo tale che il vero pensiero, quello cosmico, entri dentro di noi. Ma arrivati al rilassamento, io quando faccio i corsi propongo un training autogeno, però ci sono tante tecniche diverse da quelle che propongo io, bisogna arrivare a percepire una sorta di scossa elettrica, una sorta di sussulto, ma che è abbastanza soggettiva, per cui i viaggiatori la vivono in diversi modi, per poi raggiungere quelle che sono le famose vibrazioni, perché di fatto il viaggio astrale, lo sdoppiamento, è un cambio di frequenza vibrazionale e le vibrazioni sono fondamentali per avere la certezza di avere e di subire questo fenomeno. Quando io sento le vibrazioni, so che da lì a poco mi sdoppierò e mi creo comunque, mi creo un obiettivo o mi creo una meta da raggiungere, oppure semplicemente mi godo il viaggio senza avere particolari esigenze lavorative, perché nel mio caso sono lavorative. Senti, Anzitiv, quali sono? Allora, uno va a fare un viaggio astrale, qual è la motivazione? C'è una motivazione o è solamente un viaggio, tra virgolette, di piacere, come quando uno va a fare una gita? Sicuramente i viaggiatori che lo fanno in maniera consapevole lo fanno per acquisire informazioni e per avere un'evoluzione spirituale. Chi lo subisce, lo subisce e basta, di conseguenza non ha una motivazione vera e propria. Cioè subisce questo fenomeno, può viverlo addirittura con paura, con ansia. Ci sono tanti viaggiatori che cercano in tutti i modi di sedarlo e di stopparlo, proprio perché ancora non hanno compreso che più paura e più ansia mettono dentro questa esperienza e più l'esperienza diventa negativa, perché di fatto io sto proiettando quelle che sono le mie emozioni e quelle che sono le mie sensazioni. In linea di massima possiamo dire che il viaggio astrale è il top di tutte le esperienze trascendentali e comunque è un'esperienza evolutiva, perché rendersi conto della propria esistenza indipendentemente dal corpo è già un grosso scossone a quella che è la nostra cultura e la nostra tradizione. Di conseguenza decadono tutti i concetti e le nostre credenze sul problema morte, sull'aldilà e su quello che è il giudizio divino, diciamo così. Allora c'è una domanda di un nostro video spettatore che ti metto in sovrimpressione. Non è pericoloso farlo per chi all'inizio non c'è il rischio di non riuscire a ritornare al proprio corpo? Grazie. In realtà il rischio di non tornare non c'è, perché è molto più difficile uscire che tornare. Se non torni vuol dire che dovevi morire, per cui non è che non sei tornato perché hai fatto mi aggiastrare, non sei tornato perché dovevi morire. Non è pericoloso, occorre qualche buona tecnica, qualche buona guida, occorre qualche precauzione, ma ad oggi direi che è molto più pericoloso uscire in una città o uscire di casa in qualunque momento che fare un viaggio astrale. Ti ho perso, sei tornato. Sei andato a fare un momento, un viaggio astrale e sei tornato. È facile tornare, no? Mi sto preoccupando. Guardate, sei tornato in un paleno, hai visto? Comunque, dai, continuo, scusa. No, no, ti stavo dicendo che appunto il pericolo è ben altro, non è questo, non è pareveggio astrale. Il pericolo è nascosto nella politica, è nascosto nella società, non certo nella dimensione astrale. Senti, Ansity, c'è una domanda, perché noi non conosciamo le persone che ci scrivono da YouTube, che vorrei leggerti, però non lo so perché è un po' strana, devo dire la verità. Non ho mai, quindi non so se è una cosa, una battuta, io perché poi non conosco questo viaggio, questo argomento. Te la metto in sovraimpressione. Se tu pensi che sia una battuta, la togliamo subito, va bene? No, perché? Alle battute si risponde. Va bene, questa. Ciao Gaetano, vorrei chiedere a Ansity, perché i singhiali favoriscono le viaggi astrali e come? Ok, no, va spiegata Gaetano, non è una battuta. Va spiegata? Ok, spieghiamola. Ok, la spieghiamo. Se posso, ovviamente se posso dirlo, no? Io sto preparando un intensivo, ovvero un corso dove si lavorerà durante la notte e durante il giorno, qui in Maremma e allora stavo dicendo a Silvia che ho scelto la Maremma perché i singhiali favoriscono in modo particolare il viaggio astrale. Comunque era per dire che ho scelto una location all'interno di una riserva naturale, molto vicino al mare, ma vicino alla pineta, in un ambiente immerso proprio nella Maremma e di conseguenza i singhiali sono un po' come i gatti, cioè girano tranquillamente. E niente, è una battuta fatta con Silvia. Ah, ok. No, perché lei dice anche e come, per cui evidentemente o lei non aveva capito la battuta oppure, non so. Gli animali comunque danno molta energia. Ora magari non vi consiglio di mettere un cindiale nel letto, ma un bel gatto comunque potete tenerlo tranquillamente. Ok, va bene. Allora Roberta ci chiede quando è che fai questo corso, ce lo vuoi dire? Beh, io farò questi corsi, sono due weekend previsti a scelta, o il 14, 15 e 16 maggio, o il 28, 29 e 30 maggio. Sono qui in Maremma, sono intensivi, ve lo ripeto, per cui si lavora di giorno e di notte. Sono un'esperienza unica, importante e al lavoro c'è una squadra di dieci persone. Ok, e questo è un intensivo, ma tu faresti anche un corso che dura una settimana, che ne so, piuttosto che essere intensivo? Ma io posso fare anche un corso che dura un mese, bisogna vedere se la gente è propensa a stare al passo, insomma. Io quando devo lavorare su determinate cose, diciamo che le mie notti sono da viaggiatore, perciò non dormo, riposo magari un po' durante la giornata, però i ritmi sono abbastanza pesanti e frenetici, me lo posso permettere, perché comunque non ho degli impegni lavorativi esagerati, no? È chiaro che chi deve andare a lavorare tutti i giorni, magari anche molto presto, la notte ha comunque la necessità di dormire, perciò anche i weekend servono un po' per riposarsi e per riprendersi. Io ho programmato questi intensivi proprio dal venerdì alla domenica, perché ecco, uno ogni tanto possiamo farlo con un sonno di poche ore durante il weekend, poi se uno ha la necessità di dormire vuol dire che si addormenterà durante le prove e durante le tecniche, quella è un'esigenza e non vado certo a svegliarlo, lascio riposare. Allora c'è questa domanda? In questo periodo sento tanto la necessità di varmi a giastrale, ancora non sono riuscita, anche se ci sono arrivato molto vicino. Pensi che sia la paura che mi blocca? Beh, molto probabilmente o è la paura o non stai applicando quelle che sono le tecniche giuste, sei su un percorso che non ti dà risultati. Io consiglio sempre di provare, sul web trovate tante tecniche, tanti suggerimenti, tanti consiglio, che il 90% sono delle boiate pazzesche. Il 10% sono valide, però... Ma tu ci potresti... Eh, ci potresti dare... Vai, vai, vai. No, se no ci soprapponiamo, dimmi, dimmi, scusa. No, parla tu che sei l'ospite, poi io ti faccio la domanda. Ti dicevo, sai qual è la tecnica più adatta per fare un viaggio astrale? Qual è? No. Quella che funziona. Ah, ok. Se dopo sei mesi che provate una tecnica non ottenete risultati, vuol dire che non è una tecnica adatta a voi. Ho capito, voglio scrivere dei consigli su come può cominciare un viaggio astrale autodidatta? Allora, quello che è importante comprendere è che il viaggio astrale, fare un corso sui viaggi astrali non vuol dire comunque riuscire ad avere uno sdoppiamento, non si ha la bacchetta magica. Questo con nessuna tecnica riuscite a sdoppiarvi, a meno che non utilizziate la chimica. Questo è un altro discorso. Io sconsiglio di usare la chimica comunque, ma se qualcuno vuole avere dei risultati immediati è ancora alla strada. Oppure volete sdoppiarvi, vi suicidate, siete sicuri che vi siete sdoppiati. Queste sono le tecniche a veloce. Le altre pratiche sono... Non so, io non lo so. Come? Possiamo evitare di dire queste cose? Certo, scusa, ma lo sai che io scherzo sempre, no? Capito, però sai. Le altre tecniche sono educative, per cui sono da apprendere, ma il viaggio astrale è un percorso, è un percorso non immediato, è un percorso lungo, è un percorso che si inizia con un approccio che parte la mattina quando ci si sveglia e non la sera quando si va a dormire. Di conseguenza, se io voglio comunque ottenere dei risultati, io mi devo mettere in linea con l'idea di essere... Utilizziamo anche qui dei termini convenzionali più spirituali, di abbandonare quelli che sono le necessità prettamente materiali, ma soprattutto gli eccessi nella materia, e fare un lavoro su me stesso che dia più energia all'anima. Da quel momento in poi posso provare ad applicare delle tecniche e vedere se danno dei risultati. Non si esce dall'oggi al domani. La casistica di uscite veloci, come vi ho detto, è molto, molto bassa. Se uscite nel giro di breve, sottoposti a determinate frequenze, a determinate tecniche, vuol dire che eravate viaggiatori. Allora, Roberta dice che lei ha mandato delle mail per i tuoi corsi ma non ha ricevuto risposta. Non so, però io poi ho letto anche un tuo post che dice che hai la chat intasata, per cui bisognerebbe rispondere alla nostra Roberta. Allora, Roberta, se vuoi delle informazioni sugli intensivi, devi mandare una mail all'amministrazione.effettoensitiv.com e vedrai che ti risponderà Antonia nel giro di breve. Se non lo ha fatto, sarà questo nei giorni. Io sono veramente sommerso da richieste, da messaggi, da mail, per cui ci metto un po', ci metto veramente tanto a dare... Scusa, mi vuoi dire di nuovo la mail, così io la scrivo. Amministrazione. Punto. Effettoensitiv. Chiocciola.gmail.com Tu continua a parlare, mentre io scrivo. Ecco, per cui se hai mandato una mail a questo indirizzo, vedrai che Antonia ti risponderà a breve. E comunque, indipendentemente dalle richieste, è che io cerco sempre di rispondere a tutti quanti, perciò bisogna solo avere un po' di pazienza. Ok, questa è l'email dove potete scrivere per prenotarvi al corso... Esatto, per avere informazioni sugli intensivi. Per avere informazioni sugli intensivi. Perfetto. Allora, torniamo alle domande, perché c'erano delle domande. C'era questa domanda da parte di Silvia. Come ho detto prima, Silvia, lo scopo dei viaggi estrali è un'evoluzione. Bisogna vedere se uno ha l'interesse a evolvere a livello spirituale. Se la cosa non interessa, non andate a ricercare questo genere di esperienza. Ok. Poi c'è una signora che scrive questo a proposito del fatto che prima dicevamo che quando tu viaggi, poi dopo una persona diceva che aveva paura di tornare, ma lei scrive questo perché ha fatto un corso di sciamanesimo. Bravissimo, esattamente così, però non sono d'accordo. Lo sciamanesimo insegna che può succedere di rimanere in un'altra dimensione. Il corpo può essere invaso da un'altra anima. Durante alcuni trattamenti si insegna a richiamare l'anima. Ma io non so sinceramente cosa insegna lo sciamanesimo. So che il viaggio astrale è fatto senza ritualistica, senza ritualistica, per cui in maniera spontanea, attraverso delle tecniche, è un viaggio di per sé abbastanza sicuro. Io ne ho fatti abbastanza, il mio corpo non è mai stato preso, non è mai stato occupato da nessun altro, per cui credo che la sicurezza sia un fatto oggettivo. se poi con la ritualistica si aprono anche altre situazioni, non te lo so dire perché non la conosco. Ok, questo di un tuo compaesano. È possibile che al ritorno di un viaggio astrale ci si porti dietro qualche energia presente in piano astrale? È pericoloso? Un saluto da Gorseto. Qualche energia pesante, sì, i famosi vampiri energetici e le larve energetiche esistono. E ecco, l'unica preoccupazione che si può avere è questa, quella di essere un po' contaminati da queste energie pesanti che continuano a risucchiare la nostra energia. Bisogna sempre tenere delle frequenze molto alte, per cui bisogna sempre far sì che, visto che sul piano astrale queste entità e questi soggetti, chiamiamoli così, hanno delle frequenze molto basse, bisogna rendersi irraggiungibili, stare a frequenze alte, in modo tale che la connessione, il filo conduttore tra noi e lui non ci sia più e non gli consenta un po' di risucchiarci energia. Questo ecco è l'unico problema a cui si può insuggere. E questa domanda? Quando viaggi in astrale ti senti carico o stanco? Sì, allora, la stanchezza a volte si passa le nottate senza dormire, per cui c'è una stanchezza fisica, c'è una voglia comunque di un riposo un pochino più rilassato, però c'è anche molta energia, si acquisisce molta energia, perciò ci si sente carichi, stanchi ma cari, stanchi ma felici. Ma questa è una mia domanda, ma se tu sei stanco non sei più soggetto ad attirare delle energie pesanti come queste larve di cui parlavi? Se io viaggiassi in una situazione di stanchezza, stanchezza, però non una stanchezza fisica, una stanchezza emotiva, una stanchezza determinata da altri fattori, sicuramente le mie frequenze sarebbero più basse, per cui andrei ad innescare il processo di vampirismo energetico. Io cerco sempre di viaggiare quando sono al top, però bisogna fare una distinzione, Gaetano, che i primi viaggi, i primi sdoppiamenti, di solito avvengono nell'ambito del proprio ambiente, della propria camera, per cui è difficile dire che questo è pericoloso, anche se di fatto siamo in connessione con altre dimensioni, però basta un pensiero per rientrare nel corpo. La cosa diventa un pochino più complessa quando si iniziano a frequentare delle dimensioni, a ricercare delle esperienze diverse e determinate frequenze. Allora lì ci si sposta, ci si sposta per parlare di spazio, è una forzatura, però ci si allontana molto, diciamo così. Come si fa ad alzare le frequenze? Si applica uno stile di vita che sia prettamente spirituale. Vi ripeto, spirituale è un termine che uso per convenzione, però il pensiero ottimista è di sicuro valido per alzare le frequenze, l'alimentazione, il contatto con la natura, una buona salute anche è un distacco da quelle che è la materia, per cui alcol, fumo, che lasciate magari da parte, ma una cosa che alza tanto le frequenze, io lo faccio quasi sempre come domanda durante le conferenze, nessuno mi dà mai la risposta, però è l'altruismo, il sano, puro altruismo, quello vero, il dare senza aspettarsi nulla in cambio, è una cosa che gratifica tantissimo l'anima, che è un'entità propensa al bene, propensa soprattutto alla fratellanza, all'unione, e di conseguenza fa sì che le mie frequenze abbiano proprio un picco, un innalzamento fantastico, grazie a dei semplici gesti di gentilezza e altruismo. Che bella cosa hai detto adesso, bravo, sono contento, bravo, bravo, bravo. Nei viaggi astrali cosa si vede? Beh, se ti proietti all'interno di determinati ambienti, vedi qualcosa di simile a quegli ambienti, non è detto che tu le veda esattamente come sono, ma qualcosa di simile e di sicuro, oppure puoi andare in qualunque posto tu voglia, puoi acquisire delle conoscenze che, come ho detto prima, sono cosmiche, puoi andare in altri pianeti, puoi andare nel passato, nel presente, nel futuro, perché di fatto il tempo non esiste, è uno scorrimento del tempo circolare, di conseguenza potresti vedere qualunque cosa. Ok. Poi c'è questa qua, che stavo leggendo adesso, ma la vedo un po', però dimmi tu. Oggi pomeriggio ho riposato, non so se è stato un viaggio astrali o un sogno, mi sono vista stessa sul letto, proprio come mi ero stesa, immagino, con la mia gattina sulle gambe, e mi vedevo il mio corpo e dicevo No, non mi abbandona mai. Cosa mi dice? Ah, io cosa mi dico? Allora, quando ci si vede solitamente distesi sul letto, distesi sul letto, con tutta probabilità ci siamo sdoppiati. Magari ci sono dei parametri che vanno tenuti in considerazione, che sono quelli che ho detto all'inizio, le scosse elettriche, le vibrazioni, che puoi anche non aver percepito, perché forse non ho stato di sonno, un pochino più profondo, o perché comunque non gli ha dato importanza, ma solitamente se riusciamo a vedere il nostro corpo, se abbiamo la sensazione di volare, di essere da tutt'altra parte, nonostante sappiamo che comunque il nostro corpo rimane sdraiato sul divano, sul letto, su una poltrona, siamo vicini a quello che è il fenomeno del viaggio astrale. Poi ogni caso andrebbe analizzato a sé. Ok. Quest'altra? Oh, ciao Ale. Puoi usare qualche parola in più per l'editarietà di questa capacità? Sì, ok Ale. Va bene. Di solito si tramanda un po' a livello generazionale, per cui è facile che i viaggiatori spontanei abbiano degli antenati che hanno fatto la solita esperienza. purtroppo prima era un'esperienza che veniva negata o addirittura sedata, per cui era quasi impossibile parlare di viaggi astrali. Era difficile per un bambino, per un ragazzo, dire mi sono ritrovato da tutta l'altra parte, ho parlato con i nonni defunti, e di conseguenza il tutto veniva messo a tacere e il viaggiatore stesso cominciava a convincersi che fosse frutto della propria fantasia, o addirittura che fosse semplicemente un sogno particolare. Perciò abbiamo perso tante, tante informazioni a livello proprio generazionale, tante informazioni da padri, da nonni che potevano raccontare queste esperienze, ma c'è anche sicuramente una capacità, una parte generazionale, una parte che si tramanda un po' attraverso, come qualunque altra capacità, attraverso padre e figlio, madre e figlia, eccetera, eccetera. Ok, allora c'è quest'altra domanda. Quando uno parte per un viaggio astrale la sensazione è quella come se qualcuno volesse portarti fuori dal tuo corpo. Sì, simile, cioè ti senti comunque proiettato proprio fuori dal corpo. C'è questa sensazione spesso, perché ci sono tante cose che spaventano, perché la nostra mente tende a codificare quelle che sono le sensazioni che riceviamo e quelle che sono le percezioni che sentiamo. Di conseguenza quando io ho la sensazione di sentirmi proiettato verso l'alto, come quella che avviene durante uno sdoppiamento, il più delle volte la mia mente codifica, visto che non ritiene possibile questo evento, lo codifica come se qualcuno mi stesse strappando l'anima, mi stesse portando fuori. Addirittura arriva a visualizzare il nostro isciattolo, l'entità che mi prende, o la mano nera che mi prende l'anima e me la porta fuori. Spesso, ci tengo a dirlo, è una codifica della vostra mente, perché deve creare per forza qualcosa che conosce. Io comprendo che insorga in quel momento la paura e l'ansia, ma se non affrontate la cosa non scoprirete mai la bellezza di questo fenomeno. Bene, bravo. E questa qua è molto interessante. Vorrei chiederti con un aggettivo come definirebbe la vita dopo la morte fisica. La vita dopo la morte fisica è una, non so se lo posso definire con un aggettivo, però è un'esperienza, è una nuova esperienza. Per cui io passo da quella che è una frequenza legata alla materia a quella che è una frequenza legata all'energia. cioè è una nuova esperienza, è una nuova forma di esistenza. Ok, perfetto. Abbiamo tantissime domande, però tra mezz'ora dobbiamo terminare, però le facciamo tutte. Allora, sto scorrendo, ci sono delle persone che ti salutano, salutano solo te, a me non salutano. Maleducati, salutate anche Gaetano. No, non c'è problema. Molto spesso capita che io sto facendo un'intervista, le persone entrano, salutano solo la persona, sono solo l'ospite, come se io non ci fossi. Ti saluto da parte loro. Ecco, mi saluti da parte loro. Bene, bene. Ecco, questa per esempio. Quali insegnamenti spirituali ci puoi gentilmente trasferire dall'esperienza dei tuoi viaggi estrali? Ma sai, io guarda, tutto vorrei fare forché il guru di turno che dà degli insegnamenti spirituali. Io ti posso dire una cosa con tutta sincerità, Silvia, cioè non vi fermate all'apparenza, non vi fermate a quello che conoscete. Il mondo e l'essere umano è fatto da tante più cose rispetto a quello che vedete, per cui mettete in dubbio tutto, tutto, tradizioni, conoscenze, credo, persino la vostra esistenza, mettete in dubbio. Quando io avrò ristorato più dubbi che certezze, avrò fatto lavoro, perché se il dubbio attecchisce bene, parte anche la voglia di una ricerca, e la ricerca deve essere tutta vostra, perché io vi racconto le mie esperienze, ma io non sono qui a convincere nessuno, nessuna, sul fatto che i viaggi estrali sono veri o non. Se uno ci crede, bene, fate le vostre ricerche, fate le vostre scoperte, fate le vostre esperienze, questo in tutti i campi della vostra vita. Assolutamente sì. E è questa? Potrei rivedere le mie vite passate nei viaggi astrali nel passato, desiderandosi di andare a vedere una vita specifica? Certo, sì, le puoi rivedere, ma questa è una cosa che potresti fare anche tranquillamente senza dover fare per forza un viaggio astrale, anche perché tanti flash delle vite passate vi arrivano sicuramente attraverso i sogni, quando fate un sogno ricorrente e vi vedete in un ambiente, in un contesto che comunque non fa parte del vostro stato attuale, più delle volte sono dei flash di vite passate. Ok, vai velocissimo stasera, stai canalizzando? No. Mi sto sbrigando, perché hai detto che ci sono tante domande, vuoi rispondere a tutti. Ok, vai. Ma se l'altro non apprezza l'altruismo, l'anima non ne rimane ferita, di conseguente essendo ferita si abbassano le frequenze, oppure è proprio il gesto altruistico in sé che alza le frequenze? Scusami le ripetizioni. Allora, parti da un presupposto. L'altruismo è una cosa che bypassa la risposta di chi hai dato il beneficio. Si fa e basta, ma non si fa perché ci sia il ricambio di qualcosa. Il ricambio non deve essere nemmeno l'apprezzamento. Lo fai semplicemente perché è un'esigenza tua, per cui te fallo. Poi la risposta non ha importanza. Sicuramente l'anima non viene, non abbassa le proprie frequenze perché la risposta è negativa, ma anche perché la risposta è negativa può essere per tanti motivi, per cui andrebbe visto un po' nello specifico. Insomma, più delle volte chi non risponde in maniera positiva a un gesto di altruismo lo fa perché sta male. Ecco, questa è la domanda di Marina Giulia. Cavalli? Ciò che segue è solo il mio umano sentire, la paura, il fatto di supporre pericolosa l'esperienza il pensiero delle energie pesanti. Beh, queste sono le chiavi per trasformare il viaggio in un possibile incubo. Sta tutto nella nostra terra. Ciò che segue è solo il mio umano sentire, la paura, il fatto di supporre pericolosa l'esperienza il pensiero delle energie pesanti. Ma allora, non ho ben compreso la domanda. Ma hai detto perché l'esperienza era pericolosa? Non credo, no? Forse sicuramente è l'esempio di portarsi dietro delle cose spazzatura, però. Allora, di fatto io proietto quello che sono, per cui è opportuno non avere paura e non vivere l'esperienza con ansia. Ma fare delle esperienze sconosciute, dove sono così forti come quella che è la separazione dell'elemento anima dal corpo, non si può nemmeno non avere paura. Cioè sarebbe assurdo. Anch'io ho avuto paura spesso e volentieri. occorre, come dico sempre, trasformare questa paura in curiosità. E guarda, perdonami se sono ripetitivo perché faccio sempre i soliti esempi, ma fino a che non me ne verranno di nuovi dovrò utilizzare questi. Se fai un lancio con i paracadute, la prima volta che sei sull'aereo e sul bordo, che vedi proprio che ti stai per lanciare, la paura è obbligatoria, la paura è necessaria, ma quando arrivi in fondo e te hai voglia di risalire, perché l'esperienza è troppo più bella rispetto a quella paura che hai provato. Sarai di nuovo lì sopra spaventata in ansia, ma poi arriverai in fondo con la voglia di ritornare. Bisogna sostituire la paura alla curiosità e la curiosità è il motore che ci spinge a fare delle nuove scoperte, delle nuove esperienze. Lasciate stare la paura, non serve a niente, mi fa ammalare e basta. Bene. Bene, bene, bene. Ciao, Enzit, potrebbe essere che antiche civiltà padroneggiassero molto meglio di noi il corpo astrale, certo, sicuramente. A noi hanno dato la televisione, di conseguenza abbiamo perso tutte le capacità che avevamo. Questa è bella pure questa sposta, bravo. La cosa più bella che hai visto nei tuoi viaggi astrali, scusate se anche qui sono ripetitivo, è comunque aver incontrato mio figlio prima che nascesse. Per me è stata un'esperienza veramente molto bella. Sai che tutte le 250 persone che ci stanno seguendo oggi non necessariamente ti conoscono. Molte ti conoscono già, ma altre no. Per cui, se hai già ripetuto questa cosa, ben venga, così noi ce la fissiamo bene nel cervello. Ok, va bene. Domanda. Ecco qua. Alina Milena Miani. L'altruismo è una delle chiavi per alzare le frequenze, ma quando ci sono persone attorno a te che vivono in casa con te e fai altruismo a loro, ma gli stessi ti schiacciano, che fare? Allora, vi ripeto, il vero altruismo non sta a guardare né a chi lo fai né alla risposta che ottieni. Quello è il vero altruismo. Se si fa un gesto gentile, un gesto altruistico e attendiamo una risposta, già stiamo sbagliando. Guarda, una volta scrissi un post che ha creato molto dibattito e molto scompiglio e diceva questo, chi ama non vuole essere ricambiato. Perché il vero amore in realtà non ha bisogno di una risposta o di un feedback. per cui nel momento in cui si riceve una risposta già stiamo giudicando e stiamo valutando qualcosa che non deve essere né giudicato né valutato. L'esplosione di un sentimento, di importanza di un sentimento come l'amore non deve avere per forza un feedback di ritorno. E così è l'altruismo. Enziti, vorrei parlare brevemente di questo tuo nuovo seminario che si svolge in Rimini l'1 e il 2 maggio. Biomagia. Che cos'è? Ah già, abbiamo anche la Biomagia che è un altro bellissimo progetto perché abbiamo radunato e raccolto trattamenti olistici distinti però fatti in un'unica giornata in un'unica sessione per cui a Rimini avremo l'opportunità di ricevere questi fantastici trattamenti. Gaetano sarà con noi dove io farò comunque una lettura dell'anima e lo ripeto se volete potete portarmi anche le foto dei defunti e dei viventi perché tanto quello è il mio cavallo di battaglia. Gaetano farà il suo splendido Reiki Damiano farà la planoterapia e poi abbiamo Davide che è un counselor musicale che lo dico sempre anche questo utilizza la musica come antibiotico per cui tira fuori delle emozioni con determinate frequenze musicali e con altre determinate frequenze musicali cerca di diciamo curare quelle emozioni se hanno la necessità ovviamente di essere curate perché sono legate a un trauma. Noi saremo a Rimini l'1 e il 2 maggio non mi ricordo in questo caso il numero di Roberta però Roberta può scrivere tranquillamente sotto che dovete contattare lei perché saremo ospitati dal suo centro listico perciò per tutte le ricordi il nome del centro listico? è complicato per me ricordarmi queste cose però Roberta sono sicuro che ci segue e che metterà sotto il commento con il suo numero oppure trovate la locandina nella mia pagina nei miei profili ok perfetto bene allora bella la mia magia un bel progetto per cui come lo dici tu con questa gì toscana è ancora più bello in un viaggio astrale si può andare a cercare una persona per chiedergli scusa una persona defunta scusa mi puoi specificare? ok allora se la nostra amica può specificare se questa è una persona defunta comunque tu rispondi poi magari allora se è una persona vivente vi consiglio di chiedergli scusa direttamente anche perché la comunicazione è fondamentale se è una persona defunta non hai bisogno di andare a chiedergli scusa attraverso un viaggio astrale perché vi assicuro che i vostri defunti i vostri cari vi sentono e vi seguono anche se voi non riuscite a sentirli a percepirvi per cui chiedili tranquillamente scusa senza aver bisogno di un viaggio astrale ma sono convinto che se a tuo padre ti ha già perdonato Emma ti manda questo saluto dice che vai leggi i viaggi astrali sono il mio futuro lo sento nelle mie corde e tu hai suggellato questo mio desiderio grazie bene mi fa piacere mi fa piacere Emma perfetto allora poi lei questa è un po' strana questa domanda te la illustro magari tu la capisci ti protegge potrebbe essere la tua guida o magari rappresenta la tua razza extraterrestre a me succede spesso io sono l'arigano ok ti protegge io io non ho protezioni particolari per cui la parte la parte aliena non non la conosco troppo no le mie uniche protezioni sono sul corpo sono attraverso una simbologia i miei tatuaggi ok sono comunque delle protezioni per me perciò diciamo che viaggio da solo e viaggio tranquillo evidentemente lei si riferiva a questa domanda che ha letto il gatto di casa presente durante queste esperienze ha un significato sì allora il gatto è già un animale con un alimento scusa è un alimento il gatto fantastico da proprio salire le vibrazioni il gatto è un animale di per sé medianico no proprio sta a metà tra due mondi e ha un'energia molto potente di conseguenza vi protegge soprattutto quando quando ci sono delle problematiche anche proprio di natura fisica perché i gatti le sentono prima contornatevi di gatti tranquillamente a meno che non siate allergici come me perché è comunque un bel un bel supporto quando lavorate su determinate energie ok poi c'è questa domanda un po' bizzarra cosa pensi del pensiero di malanga riguardo agli alieni che cercano di prendere l'energia dell'anima umana per poter vivere più a lungo penso che ci sia molto di vero sì penso che ci sia molto di vero ci sono determinate razze che comunque ambiscono a quella che è l'energia anima umana e qui vorrei fare una precisazione che l'energia anima ha un potenziale altissimo è capace di fare delle cose che non riuscite nemmeno ad immaginare e noi bisogna che riusciamo a comprendere la multidimensionalità dell'essere umano siamo esseri multidimensionali proprio grazie a questa energia che comunque può spaziare attraverso tante dimensioni è un'energia potente è un'energia al più delle volte pulita per cui è ambita da tanti tanti chiamiamole entità ecco ok la nostra paola una delle nostre moderatrici del convegno ha messo tutti i contatti per biomagia la paola è una delle persone che verrà a Rimini e quindi bene ti aspettiamo paola sì allora mi chiedono dei tuoi tatuaggi quanti tatuaggi hai 7 8 non lo so le dovrei contare non lo ricordo ecco un'amica ci chiede Maria Teresa ci chiede no scusa questo riguardo a tatuaggi vorrei chiedere se hai un tatuaggio sull'avambraccio destro che raffrigura il tridente allora io sull'avambraccio destro non ho un tridente ho questo non si vede scusa aspetta se provo ok ok ho un anche questo è un simbolo unico comunque di protezione è un tridente è molto scuro scusa non si vede posso scorgere su questo sul sinistro un'altra cosa sul sinistro ho un fulmine vabbè ma tutti questi ti sentono ma non è che sono venere da tuaggi no i tatuaggi hanno un significato o uno si può fare un tatuaggio senza che ha un significato io non faccio tatuaggi estetici questo è poco massimo ci sei? tatuaggi che abbiano un significato estetico per me hanno sì mi senti ti sei bloccato per un momento scusa ti dicevo non faccio tatuaggi estetici faccio tatuaggi che per me hanno dei significati simbolici ok la nostra Bianca vuole rivedere il timone che c'hai sul Bianca non è un timone lo sto prendendo in giro però ok ecco Bianca voleva rivedere il timone che cos'è questo? è un darmachakra darmachakra Bianca si chiama darmachakra mi raccomando adesso lo scrivo ok questa? tu lo sai? conosci già cosa farai la prossima vita ma io vorrei riposarmi per cui speravo di acquisire finalmente la vibrazione tale che mi consente di non rincarnarmi e di stare nell'energia madre che naturalmente non ci sono ancora perché è una frequenza che si ha solo attraverso un'illuminazione però insomma io ci spererei ok allora una persona dice io ti copri con occhiali e cappellini ma ti riconosco poi con i tatuaggi e vabbè ok va bene voglio chiudere no allora allora scusa sto cercando una domanda per chiudere la nostra diretta che possa essere ok magari di chiusura questa? una persona può morire di spiacere oppure rabbia se così fosse sarebbe nell'oltre con sensi di colpa grazie allora una persona può morire credo certo con dispiacere o rabbia e si porterà dietro questi sentimenti nella prima parte e nel suo ingresso nell'aldilà poi inizia un percorso di consapevolezza e di purificazione di conseguenza vi ripeto la la tipologia di morte è quella che condiziona i primi i momenti momenti no non è il termine adatto però diciamo i primi momenti di ingresso nell'aldilà poi per tutte le anime c'è la possibilità comunque di purificarsi di comprendere l'esperienza morte gli errori che hanno fatto e tutto quanto quello che deve essere chiaro è che non c'è un giudizio vero e proprio cioè non c'è qualcuno che giudica ciò che avete fatto siete voi stessi che vi giudicate e che fate i conti con i vostri tra virgolette peccati per questo bisogna lavorare bene in vita per morire bene dopo bene bene con questa bella ultima risposta io ti saluto ti salutiamo tutti è stata un'altra serata molto interessante e quindi ti lasciamo andare con questo bel sorriso che hai sempre è stata una bellissima serata sono stato molto contento di trascorrere la con te ancora e anche adesso io non mi ricordo quando è che abbiamo un'altra diretta insieme sicuramente nel mese di maggio forse il secondo martedì di maggio ma se ci sono delle persone che vogliono venire a Rimini ad incontrarci in carne e ossa a noi due e anche agli altri due operatori noi vi aspettiamo ovviamente Gaetano nel completo rispetto dell'enorme covid assolutamente 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 quindi grazie 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 ci vediamo ancora mi rivedrete ancora alle 21 e 30 non andate via ciao a tutti ciao 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 ciao